In questo numero del Salus Tg, medici empatici avvertono il dolore e il sollievo dei loro pazienti. Italia all'avanguardia nel trapianto di isole pancreatiche, ma manca la rimborsabilità. Sono 17 farmacisti candidati alle prossime elezioni politiche. L'arma segreta dei grandi medici è l'empatia. I camici bianchi possono davvero sentire il dolore dei loro pazienti e lo stesso accade per il sollievo regalato da una terapia efficace. A dimostrarlo per la prima volta un team di studiosi americani che ha sottoposto a scanner cerebrale 18 medici mentre stavano trattando i loro pazienti. Lo studio aiuterà a far luce su un terreno ancora in gran parte inesplorato, il rapporto medico-paziente. I nostri risultati, spiegano i ricercatori, hanno dimostrato che le stesse regioni cerebrali attivate quando i pazienti ricevono un placebo, convinti di prendere un farmaco, si accendono nel cervello dei medici quando somministrano terapie che pensano efficaci. Questa è la prima prova dell'importanza di un'interazione tra le reti cerebrali di pazienti e operatori sanitari. Contro il diabete di tipo 1, il trapianto di isole pancreatiche ha ciò offerto chiare prove di efficacia e sicurezza. Presso i centri di Milano e Palermo sono praticati ogni anno da 18 a 22 trapianti da donatore e da 10 a 14 autotrapianti. Ma in Europa, solo in Gran Bretagna e Svizzera, è riconosciuta la rimborsabilità per questo trattamento. Se ne è parlato in occasione del simposio Current Issues in Pancreas Highlight Transplantation a Innsbruck, in Austria. Sono 17 i farmacisti candidati alle prossime elezioni politiche del 24 e 25 febbraio. Se ne contano sei tra le liste del PDL, cinque in corsa con Monti, tre con la lista Fratelli d'Italia, uno con il Fli, uno con la lista Amnistia, Giustizia e Libertà e uno con Ingroia. È quanto emerge dall'elenco elaborato dalla FOFI, la Federazione dell'Ordine dei Farmacisti Italiani, sui rappresentanti della categoria candidati alle prossime elezioni. Grazie. Grazie.